La vita non è uno scherzo. No, prendila sul serio, come fa lo scoiattolo ad esempio, senza aspettarti nulla, dal di fuori o nell'aldilà. Non avrai altro da fare che vivere. La vita non è uno scherzo. No, prendila sul serio, ma sul serio a tal punto che messo contro un muro ad esempio le mani legate o dentro un laboratorio col camice bianco e grandi occhiali. Tu muoia finché vivano gli uomini, gli uomini di cui non conoscerai la faccia e morrai sapendo che nulla è più bello, più vero della vita. Prendila sul serio, ma sul serio a tal punto che a 70 anni ad esempio pianterai degli olivi, non perché restino ai tuoi figli, ma perché non crederai alla morte pur temendola e la vita peserà di più sulla bilancia.